A volte si può perdere, si può perdere anche pesantemente come è successo e la capacità di un gruppo, che è quello che stiamo cercando di creare nonostante tutte le difficoltà è quello di cercare di sopportare anche queste elezioni e rialzarsi. Più di questo non puoi fare, abbiamo lavorato serenamente, abbiamo lavorato molto bene e siamo certi di avere una reazione positiva. A me non è mai capitato fino a questo momento di fare delle scelte condizionate se mai dovesse capitare sarò il primo a dimettermi perché non lo accetto perché se devo sbagliare sbaglio con la mia testa ovviamente e non con la testa degli altri quindi mettiamo subito i puntini sulle i. Tutte le scelte fatte fino adesso sono tutte fatte sulla base delle mie considerazioni. Io domani farò delle scelte, visto l'ambiente non proprio consono alla partita che sicuramente sarà una partita difficile, io dovrò prima di tutto avere garanzie mentali oltre che quelle tecniche. Domani c'è bisogno di gente che ha un po' di palle. Mi aspetto una squadra, sicuramente un'ottima squadra, un'ottima formazione, ha fatto una buona campagna acquisti a giocatori importanti per la categoria. Una squadra che al contrario di noi viaggia sulle linee di entusiasmo spinti anche dall'ambiente positivo giustamente perché ha vinto e vorrà venire qui a fare risultato e conoscendo il loro mister che è un ottimo allenatore che sa infondere tanta carica agonistica credo che sarà una partita piena di questa caratteristica. Grazie.